La mappa dei rischi SACE 2023 mostra una rischiosità globale media relativamente inalterata rispetto alla precedente, in cui si sottolineava la mancata auspicata inversione di tendenza dopo gli incrementi post pandemia del 2021. Da un lato questa stabilità è una buona notizia perché nonostante le circostanze geopolitiche avverse le principali economie sono riuscite a mantenere un livello di rischio relativamente immutato. Dall'altro l'assenza di miglioramento rappresenta una sorta di occasione persa per quelle geografie che nonostante gli ampi supporti finanziari non sono riuscite a rafforzare i propri fondamentali macroeconomici, questo lasciando presagire una maggiore esposizione ai rischi del credito.